Ok. Buongiorno, benvenute e benvenuti al webinar dedicato al primo bilancio di genere dell'ISTAT. Io sono Tiziana Carrino della Direzione Centrale delle Risorse Umane, Area Formazione. Come molti di voi sapranno, l'ISTAT ha adottato il primo bilancio di genere a maggio 2024. Il bilancio di genere è il documento che analizza gli impegni economico-finanziari di un ente, di un'organizzazione in un'ottica di genere. È uno strumento quindi che permette di capire e di analizzare in che modo e in che misura le politiche di un'organizzazione impattano su donne e uomini in maniera differente. Non è pertanto un semplice documento contabile, ma uno strumento innovativo che ci aiuta a comprendere come le risorse vengono allocate e gli effetti che quindi producono in termini di parità di genere. Parleremo del primo bilancio di genere dell'ISTAT con Sara Demofonti, dirigente del Servizio Pianificazione Strategica e Programmazione Integrata, Federica Conte, referente ISTAT per i rapporti con la ragioneria generale dello Stato, proprio in merito alla redazione del bilancio di genere dello Stato italiano, e Sabrina Pifferi, coordinatrice dell'area tematica dedicata proprio alla realizzazione del primo bilancio di genere. Vi prendo due minuti per descrivervi un po' l'organizzazione del nostro webinar. Il webinar, come avete visto dalla locandina, prevede tre interventi della durata di un quarto d'ora. A chiusura di ciascun intervento si aprirà lo spazio dibattito, quindi voi potrete porci le vostre domande, i vostri suggerimenti, i vostri feedback, preferibilmente per alzata di mano, ma anche via chat. Durante le varie presentazioni sarete anche coinvolti dalle nostre relatrici nella risposta ad alcune domande e commenteremo poi insieme i risultati che ci avete fornito. Prima però di passare la parola a Sara Demofonti per il primo intervento, abbiamo una sorpresa. Il collega Giovanni Prattichizzo, social media manager dell'Istat, ha intervistato per noi, quindi proprio per questo webinar, Piera Levi Montalcini, nipote di Rita Levi Montalcini, famosa ingegnera, donna di scienza, che negli anni 60-70 si è trovata immersa in un contesto diciamo professionale, accademico, lavorativo, naturalmente prevalentemente se non esclusivamente maschile. Sentiamo cosa ci racconta. Quando io mi sono iscritta al Politecnico, il Politecnico non prevedeva che si iscrivessero donne in ingegneria, per cui non essendo prevista una frequenza femminile, non erano stati progettati i bagni per le donne, e ne pure gli spogliatoi per le donne. Quindi noi ci arrangiavamo portandoci i nostri cappotti in aula e quando avevamo bisogno di un bagno andavamo ai piani alti dove c'erano le segretarie che erano state previste, perché ovviamente i professori avevano delle segretarie che ovviamente dovevano essere donne. Quindi gli stereotipi erano assolutamente rispettati in una intiera costruzione, che poi non è una costruzione fatta molto tempo fa, perché risale dopo la guerra, molto dopo la guerra, negli anni 50, fine anni 50, quindi quando già si poteva pensare che le donne avrebbero anche sbordato in campi maschili. Io penso che quando una ragazza entra in un mondo del tutto maschile viene lasciata molto in pace, perché viene guardata dai colleghi maschi come un'aliena che osa sfidare un mondo diverso dal suo. Di fatto, almeno per me, ma penso anche per Zia Rita, il fatto di entrare in un mondo praticamente maschile non ha voluto dire nulla di diverso che stare con delle persone con cui si può parlare, ragionare e progettare il futuro piuttosto che affrontare qualunque discorso. Quindi la differenza è più una differenza concettuale che non una differenza reale, perché si può affrontare qualunque discorso con chiunque, maschi, femmine, vecchi, giovani, bambini, eccetera. Quindi è proprio soltanto una questione di non mettere barriere e di pensare che le persone hanno tutte un cervello per poter ragionare, per poter rispondere a delle domande o tenere un discorso tra amici o tra colleghi. per evitare appunto che ci siano differenze di visione di progettazione del futuro e del mondo in uno stato unitario dell'est europeo, hanno previsto che qualunque carica politica o dirigenziale sia ricoperta da due persone, un maschio e una femmina, in modo da contemporare la visione del mondo, sia con una visione maschile che con una femminile. In effetti non ragioniamo esattamente nello stesso modo, però è importante tener conto sia della sensibilità maschile che di quella femminile. La consapevolezza delle istituzioni, delle società, diciamo del mondo in generale, di valorizzare la posizione della donna all'interno della società, non solo come madre, come donna di casa, ma come lavoratrice, come essere umano pensante e valutare la capacità di ragionamento delle donne che è leggermente diverso da quello maschile, perché per educazione siamo state abituate a provvedere anche ai bisogni degli altri, molto più degli uomini. è una necessità inderogabile ormai per riuscire ad avere un mondo inclusivo e un mondo non di guerra ma di pace. Io mi auguro, come si augurava sempre Zia Rita, che le donne siano portatrici di pace, nel senso che i figli sono figli nostri, facciamo fatica a farli, ad allevarli, e vederli morire in guerra non è certo un'aspirazione che una donna possa avere. Basandosi su questo, anche se purtroppo in molte società le donne sono educate proprio a pensare di essere orgogliose di avere un figlio che è morto per la patria, oggi direi che siamo lontani da questo modo di pensare, finita la seconda guerra mondiale si è capito che tutto quello che può essere una lotta tra le popolazioni, tra i popoli, per motivi sostanzialmente poi sempre gli stessi, cioè di potere ed economici, non sono quelli che regolano questo mondo. La speranza è che le donne non si facciano assorbire dalla mentalità maschile e che continuino a vedere il mondo a modo loro e che si compenetrino nel ragionamento con il mondo maschile, che è un mondo più concreto, un mondo di realizzazione, e un mondo di conquista, quindi che anche loro si appassionino alla conquista di nuovi traguardi, però sempre in un'ottica di sviluppo e mai di distruzione. Eccoci, rieccoci. Allora, grazie intanto a Giovanni Pratichizzo per questo contributo meraviglioso. Come dice Pieralevi Montalcini, è una questione di non mettere barriere e quindi contemperare le due visioni del mondo maschile e femminile è diventata una necessità inderogabile. Con questo non tolgo altro tempo all'inizio del webinar alla presentazione delle nostre relatrici e passo la parola a Sara per il suo primo intervento. Grazie, ma anch'io non comincerò con il parlarvi del bilancio di genere come strumento di rendicontazione perché voglio prima coinvolgervi in un piccolo sondaggio per capire da voi che risposta date a quella che vedrete a breve a vostra disposizione sullo schermo, per poi commentarla insieme. Allora, avvio. La domanda è cosa ti aspetti di trovare nel bilancio di genere dell'Istat? Qualcuno ne avrà sentito parlare, qualcuno lo avrà letto. È dunque un documento in cui sono presenti le azioni che l'Istituto si prefigge di conseguire per raggiungere la parità di genere al proprio interno oppure un bilancio della condizione femminile in istituto oppure un bilancio di natura contabile sull'orientamento delle spese in base al genere oppure altro che immaginate o che sapete o che volete così condividere. Riuscite a votare? Sì, sì. Fatto. Allora, chiudi. Registrando forse ancora alcune piccole domande. Sta ricalibrando le percentuali. 46 risposte. Siamo circa 60 partecipanti, quindi direi va bene, no? Va bene, perfetto. Allora, chiudo. Sì? Ecco, sono arrivate 53 risposte. Dunque, il bilancio di genere, come vedremo, è un bilancio di natura contabile che ci parla di come le spese, in questo caso dell'Istituto Nazionale di Statistica, si orientano in base al genere. Le azioni invece che l'Istituto si prefigge di conseguire per raggiungere la parità di genere, quelle le ritroviamo nel piano di uguaglianza di genere, che si avvale anche attraverso i dati a disposizione di una sorta di bilancio, quantomeno di formulazione di un ritratto della condizione femminile dell'Istituto. Ma possiamo cominciare adesso ad entrare nel vivo della trattazione di questo argomento e a prendere così confidenza una volta per tutte con questo bilancio di genere dell'Istituto per capire da dove parte e anche dove vuole arrivare. E quindi possiamo avviare la presentazione. La condividete voi? No, no Sara, condividi tu la presentazione. Ah ok. Esatto. Ok, ok, allora... Arrivo e... Eccola qua. Riuscite a vederla in formato presentazione o ancora? Sì. No, adesso non più. Prima si vedeva non in modalità full screen, diciamo, non... Eh, sto... Eccola qua, adesso forse? C'è un po' di ritardo rispetto alla... Riuscite a vederla adesso? Ancora no? Io la vedo a schermo intero nel mio computer. Dovresti condividerlo, Sara. Eh, lo avevo condiviso ma... Eccolo qua, la minestra. Eccolo. Adesso? Ok, adesso si sta muovendo. Perfetto. Ok, perfetto. Benissimo. Allora, cominciamo questo viaggio nel bilancio di genere. E partiamo dal contesto internazionale. E a fare da apripista è stata l'Australia nel 1984 con una prima sperimentazione del proprio del gender budgeting. Ma sono stati altri paesi che negli anni 90 si sono aggiunti nell'esplorare la possibilità di rendicontare in un'ottica di genere le spese sostenute. E quindi all'Australia si sono aggiunti il Sudafrica, il Canada, la Gran Bretagna, la Francia, Israele, la Spizzera, la Norvegia, la Svezia e la Danimarca. Questi ultimi tre paesi da sempre tradizionalmente molto all'avanguardia, non solo nelle politiche ma anche nelle azioni, nella dotazione di strumenti volti a ridurre i gap su quelli anzi di genere e conseguire la parità. E poi arriviamo al 1995, anno in cui nella quarta conferenza delle donne, quella di Pechino, nella Beijing Platform for Action viene proprio riportato che il bilancio di genere rappresenta un po' un'azione, un strumento utile per promuovere e attuare proprio il principio del gender mainstreaming. Quindi non solo diciamo un'attenzione alle politiche ma anche un'attenzione a strumenti di rendicontazione economica. Nel contesto europeo arriviamo al 2001 quando l'Unione Europea ha cominciato ad impegnarsi soprattutto con azioni mirate alla diffusione e alla promozione del bilancio di genere di questo importante strumento. Successivamente nel 2003 è stata presentata al Parlamento Europeo una relazione e anche una proposta di risoluzione proprio in tema di bilancio di genere. Nel 2007 è intervenuta la raccomandazione del Comitato dei Ministri che individua nel bilancio di genere proprio uno degli strumenti più efficaci per integrare la dimensione di genere e garantire la presenza equilibrata di entrambi i sessi nei servizi pubblici. E anche una risoluzione del Parlamento Europeo che data 25 febbraio 2010 ribadisce proprio la necessità di mettere in atto e anche di monitorare sistematicamente l'integrazione della prospettiva di genere non solo nei processi decisionali ma anche negli strumenti di rendicontazione economica. E ancora nel 2019 la risoluzione del Parlamento Europeo del 15 gennaio sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione Europea che invitava la Commissione e gli stati membri ad attuare il bilancio di genere, quindi proprio un invito molto specifico in materia così da consentire l'identificazione netta, esplicita, chiara della quota di fondi pubblici destinati alle donne e quindi garantire poi successivamente a questa informazione raccolta che tutte le politiche per la mobilitazione delle risorse e anche per l'assegnazione della spesa promuovano l'uguaglianza di genere, quindi che vengano lette anche in questa chiave. E ancora a marzo del 2020 interviene la Commissione Europea con la strategia per la parità di genere la prima che è 2020-2025 con l'obiettivo di maturare all'interno dell'Unione dei progressi significativi per attuare questa parità di genere anche tramite misure che guardino maggiormente a quell'integrazione della dimensione di genere in ogni fase dell'elaborazione delle politiche e in tutti i settori di azione dell'Unione Europea. E poi veniamo a noi al contesto nazionale dove troviamo evidente una caratteristica che le sperimentazioni non avvengono a livello nazionale e centrale quanto piuttosto a livello regionale e locale quindi in Italia è emersa prima di tutto una dimensione territorialmente più contenuta. Infatti le prime esperienze si sono sviluppate negli enti locali, in particolare nelle province e nei comuni e dei primi progetti hanno visto la luce a partire dal 2001 in Emilia-Romagna in particolare nella provincia di Modena. Ma che cos'è questo bilancio di genere? Un po' è stato già annunciato, nei fatti che lo abbiamo già introdotto è un vero e proprio documento di bilancio che analizza e valuta in un'ottica di genere le scelte politiche e soprattutto gli impegni economico-finanziari di un'amministrazione. e quindi diciamo che ha degli obiettivi questo bilancio intanto a crescere la consapevolezza dell'impatto che le politiche pubbliche possono avere sulle disuguaglianze di genere quindi uno strumento di conoscenza che consente poi di orientare meglio i decisori e poi ha un obiettivo di assicurare che gli interventi che vengono disegnati siano maggiormente efficaci tramite una chiara definizione di obiettivi di genere da tenere in considerazione anche nell'individuare modalità di attuazione cioè non sempre è necessario solo anzi quasi mai direi definire degli obiettivi per orientare le politiche ma anche definirne correttamente le modalità con cui perseguire e attuare questi obiettivi e anche promuovere una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione perché appunto il bilancio comunque rendi conta le modalità di spesa attivando meccanismi tesi a evidenziare delle pratiche che potrebbero rivelarsi potenzialmente discriminatorie nei confronti in questo caso di un genere l'analisi di bilancio chiave di genere in un'ottica di genere è molto complessa perché? Perché da una parte mira ad individuare quindi all'obiettivo di individuare le risorse sia stanziate che erogate proprio destinate a ridurre le diseguaglianze di genere questo sia all'interno che all'esterno di un'amministrazione e poi perché il processo non si conclude attraverso questa individuazione ma perché è utile anche avere l'obiettivo di verificare gli impatti che poi questi interventi immaginati, disegnati e perseguiti hanno prodotto sugli uomini e sulle donne molto spesso differentemente che ambiti ci troviamo davanti? Beh, innanzitutto quello della valutazione preventiva delle decisioni cioè il gender budgeting, quello del disegno del budget che deve essere effettuata sui bilanci di previsione e anche sui documenti programmatici, quindi ex ante però poi abbiamo un'analisi di genere che si può riferire anche alle decisioni e alle politiche di gestione delle risorse realizzate da un ente quindi una fase di gender auditing, quindi questa volta a valle delle azioni intraprese queste due dimensioni è fondamentale che siano strettamente collegate e entrambe compongano la struttura del bilancio di genere perché in realtà partire dalla valutazione delle politiche dovrebbe anche poi consentire di ritarare meglio il disegno delle politiche che si intende progettare e realizzare da quel momento in avanti quindi facendo tesoro dell'esperienza già maturata Chi sono i destinatari del bilancio di genere? Intanto ovviamente abbiamo detto e li abbiamo richiamati nell'intervento più volte i decisori politici che sono in grado attraverso questo strumento di effettuare delle politiche di allocazione delle risorse in questo caso sempre più efficienti ma anche il personale dell'ente perché conoscendo la destinazione, l'orientamento, la pianificazione delle risorse in un'ottica di genere riesce ad essere coinvolto e stimolato a gestire i servizi dell'istituto in un'ottica di genere e poi le tante comunità di riferimento perché ricordiamo il bilancio di genere è comunque una forma di rendicontazione sociale quindi consente a stakeholder esterni di capire meglio alcune scelte compiute dall'amministrazione Quali sono le prospettive future? Beh, intanto abbiamo la strategia nazionale per la varietà di genere 2021-2026 che ci aiuta notevolmente a considerare questo strumento e il suo utilizzo come un valido supporto al conseguimento della parità di genere e anche la riforma relativa alla revisione della spesa in ambito PNRR che prevede che proprio la legge di bilancio 2024 presenti una classificazione delle voci proprio secondo i criteri che sono alla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 con riferimento nello specifico al bilancio di genere e al bilancio ambientale quindi diciamo che questo strumento di cui poi le colleghe che vi parleranno dopo di me forniranno ovviamente maggiori dettagli e informazioni sono diciamo questi due pilastri sono importanti per sostenere adeguatamente il futuro di questo strumento di rendicontazione grazie 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 Sara per questo contributo ricco di contenuti e si apre adesso lo spazio dibattito quindi se avete domande suggerimenti feedback stiamo qui per appunto pronti a rispondervi le domande ecco abbiamo una prima richiesta la collega Monica Montella che adesso abilito ok già abilitata perfetto grazie vai Monica sentite? si ecco perfetto salve a tutti buongiorno grazie per questa opportunità volevo semplicemente chiedere una cosa riguardo la classificazione io ho visto che diciamo non abbiamo parlato di come poi viene classificata l'impegno di spesa se ho capito bene però dovrebbe essere la classificazione che viene utilizzata dal MEF cioè codice 0 codice 0 con asterisco codice 1 e codice 2 giusto? cioè in pratica 0 neutrale al genere 0 con asterisco da approfondire 1 diretta a ridurre le disuguaglianze e 2 sensibili al genere esattamente diciamo sì no finisco solo l'osservazione allora questa classificazione viene utilizzata per riclassificare la spesa quindi io mi domandavo perché invece non si lavora per creare la spesa direttamente in un'ottica di genere cioè nel momento in cui viene creato il bilancio a livello proprio di previsione quindi il fa bisogno cioè nel momento in cui viene proprio fatta la ricerca tra i ministeri di come viene pianificata la spesa allora in quel contesto perché non creiamo già lì una classificazione cioè nel momento in cui nasce il fa bisogno in modo che poi ci riportiamo questa classificazione fino poi all'impegno di spesa in modo che diciamo gestiamo anche un po' tutto perché nel momento in cui viene preventivato fino al momento in cui viene impegnato sappiamo se poi quella risorsa è stata finalizzata a quella spesa di genere o si è pressa nei meandri diciamo delle spese perché sappiamo bene come funziona la spesa diciamo il bilancio pubblico in generale poi volevo chiedere un'altra cosa ho notato che viene utilizzato l'analisi impegno capitolo capitolo piano di gestione invece io mi domandavo perché non utilizziamo azione per piano di gestione perché l'azione ci aiuta a capire forse anche un po' in maniera più precisa quella che è l'azione appunto in questo caso in un'ottica di genere è anche abbastanza precisa e non diciamo andiamo a incorrere in errori omissioni o magari una interpretazione sbagliata invece l'azione è molto chiara precisa e quindi io diciamo pochè in pochino ho fatto questo tipo di analisi non per il bilancio di genere ma per il bilancio ambientale mi sono dedicata molto ad analizzare il bilancio ambientale allora faccio queste osservazioni un pochino perché diciamo sono sono esperta di queste materie e quindi mi fa piacere dare il mio contributo grazie 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 di questo contributo di questo contributo perfetto allora diciamo io non ho volutamente fatto riferimento al bilancio di genere come diciamo proposto dalla ragioneria generale dello Stato che è il modello a cui si è ispirato l'Istat perché lo faranno le colleghe dopo di me in particolare Carmen Federica Conte quindi poi lascio la parola a lei su questo per chiedere meglio diciamo che la classificazione utilizzata la riclassificazione utilizzata è stata quella nominata quella citata ma l'ottica vuole essere diciamo anche quella che è stata un po' accennata nel contributo di Monica cioè una volta che si riclassifica la prima volta la spesa poi diciamo la fotografia che si traccia non è una fotografia statica e quindi consente negli anni successivi per esempio sulla base di scelte che fa l'amministrazione di portare delle 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 voci che sono state riclassificate come neutrali o come sensibili a diventare sensibili oppure dirette a ridurre le disuguaglianze quindi questo è un po' il percorso che l'ISTAT si è prefisso però su questo diciamo non vorrei poi anticipare il contributo della collega che viene proprio a seguire vediamo vediamo se ci sono altre altre domande nel frattempo ne faccio una io e pensi Sara che l'ISTAT appunto che ha realizzato il primo bilancio di genere insieme a poche altre diciamo amministrazioni dello Stato possa avere un ruolo chiave nel processo di cambiamento delle politiche di genere proprio in un contesto nel contesto italiano beh penso che lo possa decisamente avere l'ISTAT ha una sensibilità che affonda le radici in un lontano passato rispetto alla già alla produzione di dati e quindi della messa a disposizione di informazioni statistiche attraverso indagini di cui l'ISTAT è stato pioniere anche a livello di consesso internazionale in grado di fornire indicazioni per orientare le politiche e ridurre le disuguaglianze di genere di recente oltre a questo diciamo a continuare ad implementare a perfezionare questo patrimonio e la sua messa a disposizione verso le collettività che ne mostrano interesse si è dedicato anche a dotarsi di strumenti volti a ridurre le disuguaglianze di genere al proprio interno quindi facendo da pretista anche a una serie di azioni all'interno dell'amministrazione come avviene in pochi altri casi perché le esperienze italiane su questo fronte sono limitate mi riferisco proprio al piano di uguaglianza di genere e al bilancio di genere che in maniera differente quindi con una attenzione e con ambiti di interesse un po' diversi e anche con degli obiettivi un po' diversi però sono entrambi strumenti che consentono all'istituto di promuovere in maniera trasparente ma anche molto attiva la parità di genere al proprio interno quindi non solo fornire degli strumenti all'esterno per cercare di dare delle indicazioni utili sui settori gli ambiti e gli aspetti a cui fornire maggiore attenzione per la riduzione della parità delle disuguaglianze di genere ma anche la promozione di azioni al proprio interno all'interno dell'amministrazione volte a ridurre queste disuguaglianze e noi devo dire che su questo fronte siamo decisamente all'avanguardia grazie grazie Sara molto interessante non vedo altre domande passerei quindi la parola a Federica Conte per il suo intervento grazie buongiorno a tutti cercherò di condividere le slide ditemi se li vedete in modalità presentazione ecco qua ci ci siete bene perfetto il mio intervento è ingentrato sul contesto italiano presso come modello di riferimento salto perché non va avanti scusate ok un attimo allora io come mi hanno presentato sono Federica Conte e lavoro alla direzione centrale per le analisi e la valorizzazione dell'area statistica delle aree statistica sociale demografica per i fabbisogni informativi e ho partecipato a questo progetto di redazione del bilancio di genere dell'ISTAT perché dal 2019 sono referente presso la ragioneria generale del bilancio di genere dello Stato non mi funziona non mi va avanti la ecco qua devo fare così allora vi parlerò quindi del primo strumento che è stato adottato in Italia in attuazione del gender mainstreaming perché il bilancio di genere dello Stato nasce da questo concetto da questo principio da questa strategia ed è il primo tentativo di rispondere a questa strategia ne esistono anche altri che sono il PNRR e soprattutto nella parte in cui si occupa della parità di genere e la strategia nazionale per la parità di genere ecco qua che cos'è perché partire da qua come dicevo il gender mainstreaming è la base concettuale che dalla quale è nato il bilancio di genere dello Stato ma è che gli altri strumenti di programmazione si sono diciamo ispirati il Consiglio d'Europa lo definisce nel 1998 come la riorganizzazione il miglioramento lo sviluppo e la valutazione dei processi politici in modo che una prospettiva di uguaglianza di genere sia incorporata in tutte le politiche a tutti i livelli e in tutte le fasi dagli attori normalmente coinvolti nella nella politica ma quando nasce questo concetto questo concetto nasce nel 1985 a Nairobi nella terza conferenza delle Nazioni Unite sulle donne dove si avvia una riflessione poi nella quale emerge che gli obiettivi delle precedenti due conferenze delle Nazioni Unite che ponevano diciamo una serie di diritti formali a tutela della donna e per la partecipazione della donna alle attività economiche e sociali al pari degli uomini non aveva avuto poi gli effetti sperati e l'obiettivo insomma in questa conferenza è quella di o meglio quello che emerge da questa conferenza è che per raggiungere la parità di genere per ridurre le diseguaglianze è necessario che questo obiettivo diventi un obiettivo trasversale e in tutte le normative in tutte le politiche in tutte le azioni di polisi era necessario partire dalla consapevolezza che non bisognava diciamo modificare il modello femminile per assomigliare al modello maschile ma bisognava accettare e conoscere le diversità di comportamento e da questa concezione cercare di rimuovere gli ostacoli che impedivano la parità di genere tra gli uomini e tra le donne e per fare questo bisognava adottare delle misure che eliminassero questi ostacoli perché raggiungere la parità di genere significa eliminare gli ostacoli al raggiungimento dell'uguaglianza di prospettive di possibilità per gli uomini e per le donne ma come è arrivato il concetto del genere mainstreaming all'interno delle politiche diciamo che ci sono state delle fasi prima delle fasi sia in Europa che in Italia dei quadri normativi che solo a partire diciamo dagli anni 2000 con il trattato di Amsterdam a diciamo introdurre in Europa il concetto di gender mainstreaming perché prima avevamo avuto una fase in Europa in Italia di tutela della non discriminazione cioè dell'introduzione di tutti quei diritti soprattutto per quanto riguarda il mercato del lavoro che tutelavano le donne e c'erano anche delle azioni le cosiddette azioni positive che permettevano alle donne di avere delle riserve delle quote e degli strumenti anche di conciliazione di tempi di vita e di lavoro ma proprio la conferenza di Nairobi che poi diciamo a Pechino ha preso la sua formalizzazione si c'era si c'era resi conto che questo aspetto diciamo che questo obiettivo non si poteva raggiungere attraverso il diritto attraverso le forme diciamo le prospettive legali il framework diciamo giuridico e normativo come dicevo il gender mainstreaming nasce a Nairobi ma diventa principio all'interno della conferenza di Pechino principio che si affianca a quello dell'empowerment femminile cioè della consapevolezza di sé se il gender mainstreaming può cioè questa è una è una slide che io ho preso dall'istituto europeo per la parità di genere e nel quale si dice che tutte le politiche devono incorporare in sé il gender mainstreaming e però bisogna crearne le condizioni per poterlo fare bisogna avere dei metodi e dei metodi degli strumenti sono appunto il bilancio di genere l'analisi di genere le statistiche disaggregate per genere gli indicatori che ci misurano il genere i risultati non è solo la parità di genere ma avere delle politiche più efficienti delle istituzioni più efficienti cioè raggiungere un benessere migliore per la collettività a prescindere dall'essere uomo o donna è proprio da questa diciamo consapevolezza che in Italia viene recepito nel codice delle pari opportunità il concetto di gender mainstreaming e la prima applicazione di questo concetto è proprio il bilancio di genere dello Stato cioè ci si rende conto che questa strategia per portare degli effetti doveva entrare anche all'interno della spesa pubblica dell'utilizzo e dell'allocazione delle risorse e l'uguaglianza di genere quindi doveva avere un legame con le risorse pubbliche sia dal lato della raccolta sia dal lato della spesa il Consiglio d'Europa rispetto diciamo a tutti i bilanci di genere dice che il processo deve ristrutturare bisogna entrare nel processo e ristrutturare le entrate e le spese per avendo sempre presente l'uguaglianza di genere ma sono tutti sempre molto attenti a dire che il bilancio di genere non è uno strumento contabile o meglio non è solo uno strumento contabile è un processo di cambiamento è un modo una prospettiva con cui si devono vedere in questo caso le risorse l'utilizzo delle risorse finanziarie dello Stato come dicevo io mi concentrerò sul primo diciamo il primo esempio di gentleman streaming che è il bilancio di genere dello Stato che nasce all'interno della riforma del bilancio di genere dello Stato in generale la legge 196 del 2009 dove all'articolo 38 SOTS ne ha previsto la predisposizione cioè l'avvio del bilancio di genere dello Stato in forma sperimentale successivamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ne definisce la metodologia questo decreto è importante per l'ISTAT perché all'articolo 4,2 stabilisce che l'ISTAT collabora all'individuazione degli indicatori utili al monitoraggio dell'impatto sul genere e sulle politiche statali un successivo decreto quello del 2018 il 116 che modifica la legge di riforma del bilancio dello Stato quindi riforma anche l'articolo 38 e stabilisce che il bilancio di genere dello Stato è anche uno strumento per perseguire la parità di genere ma intesa proprio come politica pubblica come strumento di policy e deve aiutare a ridefinire a ricollocare le risorse in questa ridefinizione e ricollocazione delle risorse nell'analisi deve tener conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere e quei sostenibili cioè gli indicatori BES che sono utilizzati all'interno del documento di economia e finanza gli indicatori BES-DEF nel quadro normativo che sta alla base del bilancio di genere dello Stato c'è una circolare la circolare della ragioneria che viene emanata ogni anno l'ultima è quella di maggio 2023 nella quale vengono spiegati ai soggetti che partecipano come devono essere classificate le spese su quale prospettiva e poi come devono essere analizzate nei questionari quali sono gli attori sicuramente è la ragioneria generale dello Stato che ha il compito della redazione e del bilancio di genere e della preparazione della relazione che accompagna il bilancio di genere partecipa nel processo anche altri dipartimenti del MEF tutte le amministrazioni centrali vale a dire i ministeri anche nelle articolazioni periferiche la presenza e il consiglio per il monitoraggio partecipa l'ISTAT come abbiamo visto in base al decreto l'IMS il dipartimento pari opportunità e altri fornitori soprattutto a partire dall'emergenza sanitaria che ha aperto dei focus speciali proprio sui divari di genere il processo è un processo diciamo a consuntivo cioè se io quest'anno faccio 2023 il bilancio l'esercizio su cui io vado a rendicontare è quello dell'anno precedente e parte con la preparazione appunto della circolare vengono emanati inviate alle amministrazioni cioè ai ministeri che compongono il bilancio dello Stato dei questionari che rilevano le politiche le azioni positive fatte dalle amministrazioni e appunto cercano di vedere quali sono le spese che hanno fatto cioè la rendicontazione che vedremo poi elabora i questionari viene riclassificato e poi noi contemporaneamente insomma la ragioneria richiede gli indicatori di contesto quindi anche a noi richiede insomma una batteria di indicatori per l'analisi di genere viene redatto il rapporto viene inviato al rapporto al gabinetto del MEF che lo presenta al Parlamento per l'approvazione e pubblicazione la struttura del bilancio è appunto una struttura che prende in considerazione da un lato il monitoraggio di vari di genere sia nell'economia che nella società che nel pubblico impiego riclassifica le spese secondo tre tipologie che ora vi spiego fa anche un'analisi un focus sull'analisi tributaria perché i tributi insomma anche l'entrata hanno degli effetti diversi tra uomini e donne in particolare analizza le aliquote IRFEF e poi vede le azioni intraprese che fanno le amministrazioni che partecipano al bilancio inoltre viene anche data una rassegna normativa a partire dal dopoguerra oggi di tutte le norme che riguardano la parità di genere e in particolare c'è una sezione dedicata proprio al gender mainstreaming la struttura del bilancio di genere viene riportata nella relazione dove che consta di cinque parti nella prima c'è il ruolo dell'istat nell'analisi di genere la quinta è quella della riclassificazione in senso stretto delle spese le spese sono classificate appunto in spese dirette a ridurre le diseguaglianze spese sensibili cioè che hanno potrebbero avere un impatto diretto indiretto sulle diseguaglianze neutre quando escono da questi due perimetri e dal 2023 da approfondire perché per le loro caratteristiche intrinseche potrebbero essere ricollocate tra le spese sensibili o le spese dirette non vengono solo considerati i capitoli di bilancio le azioni in senso stretto per capire la natura vera della riclassificazione della spesa vengono considerate anche altri atti amministrativi perché tutto ciò che può aiutare a capire come deve essere ricollocato quella spesa è un documento utile un documento amministrativo utile al corretta ricollocazione delle spese nel bilancio qual è il ruolo dell'istat noi forniamo una certa batteria di indicatori che nel 2016 erano la batteria diciamo il data set ufficiale erano 39 oggi sono 173 circa il 40% lo fornisce l'istat e a quale si aggiungono sono 70 a quale si aggiungono quelli sempre di fonte istat ma presi diciamo classificati come eurostat e poi ci sono altri indicatori che derivano da altri fondi di questi 70 22 sono BEST 6 sono quelli scelti tra BEST DEF e 42 sono gli indicatori che noi calcoliamo ad hoc per l'analisi di vari di genere a questo va data set ufficiale se ne aggiungono moltissimi altri che riguardano che riguardano gli indicatori di vari di genere vengono classificati in sette aree e sul totale quelli in verde in arancione giallo sono i dati per aree che noi forniamo come istat particolarmente presenti siamo nel contrasto alla violenza di genere dove forniamo 23 su 25 mentre il nostro contributo è molto esiguo nell'area partecipazione ai processi economici decisionali politici e amministrativi dove vanno a finire questi dati in serie storica che noi diamo e tutte le tavole con i metadati vanno nell'allegato allegato 3 che è un allegato di raccolta indicatori suddivise per le sette aree che rappresenta proprio una parte integrante ufficialmente una parte integrante del bilancio di genere dello Stato allegato al rendiconto come dicevo all'inizio ci sono altre applicazioni dello gender my streaming che sono anche riportati diciamo nel contesto nella cornice che abbiamo utilizzato all'interno del bilancio di genere dello Stato che sono il PNRR soprattutto con un'analisi ex-ante dove l'Istat partecipa con l'individuazione di indicatori chiave e soprattutto sono indicatori BES e poi la strategia che riutilizza lo stesso schema del gender my streaming e ha come obiettivo guadagnare 5 punti nella classifica age e rientrare tra i primi 10 paesi europei per il miglioramento della condizione femminile in un'ottica di lungo periodo qua sono i link alla ragioneria il primo dove c'è il bilancio di genere dello Stato le pari opportunità dove si possono trovare la strategia e sembra la ragioneria il MEF dove possiamo trovare la valutazione ex-ante sulle differenze di genere all'interno del PNRR io ho finito ringrazio ok chiudo Federica c'era anche una domanda da porre ai nostri colleghi avevi preparato una domanda propriamente detta ok non so se è troppo tardi adesso per farla partire o se comunque ha un senso per farla partire la facciamo partire noi devi solo tu dirci diciamo ecco si la leggo perché non la so no 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 la facciamo partire facciamo partire eccolo allora credi che il bilancio di genere dello Stato sia uno strumento di policy utile a innescare un cambiamento culturale nell'approccio delle tematiche di genere sì in parte o no eccoci aspettiamo qualche minuto magari chiediamo ai colleghi se intanto hanno delle domande da porre alla nostra relatrice sempre per alzata di mano vedo una mano alzata eccoci Roberta Ferrante sì grazie buongiorno ciao io volevo fare una domanda che mi è sorta un po' spontanea guardando una slide prima della collega metodi e strumenti c'era scritto gender on audit volevo chiedere anche alla collega Sara insomma una domanda un po' generale si sta pensando in istituto a una qualche certificazione sulla parità di genere visto il lavoro che si sta facendo in Istat non mi pare neanche che il bilancio di genere sia solo una la prima di queste attività in questo settore perciò volevo capire se ci sono in programma delle azioni volte appunto a questo traguardo ecco grazie se no io so che per la parità di genere non c'è una ISO come per esempio quella sulla salute e sicurezza però sono delle prassi codificate diciamo di livello alto a cui forse varrebbe la pena pensare in istituto visto che anche Sara diceva che non sono tanti gli enti che possono diciamo avere un bilancio di genere l'ISTAT è uno di questi insomma grazie rispondo io alla collega Tiziana se sei d'accordo allora l'ISTAT è sicuramente già ecco l'ISTAT già sta lavorando proprio su questo discorso della certificazione della parità di genere parliamo della Uni PDR 125 che è una certificazione particolare nata diciamo soprattutto esplorata e sperimentata soprattutto nel settore privato però hanno cominciato delle pubbliche amministrazioni in due finora a percorrere questa strada quindi anche noi ci siamo attivati in questo senso le certificazioni di qualità comportano un percorso qui ci segue anche la collega la dottoressa Daniela Docci che è responsabile del sistema di gestione della qualità e noi abbiamo già certificato dei processi organizzativi è sempre con lei che nell'ambito delle certificazioni di qualità stiamo lavorando per intraprendere questo percorso non è una la certificazione di in questo caso sulla parità del genere dell'istituto nazionale di statistica non è una certificazione che avviene contestualmente ma che comporta appunto il disegno il tracciare un certo cammino verso il conseguimento di questa di questa certificazione ma diciamo che insomma ci siamo ci siamo incamminati adesso devono essere fatte tutta una serie di azioni e anche coinvolte a cascata le strutture insomma dell'istituto competenti quindi è una buona notizia insomma diciamo ci stiamo muovendo anche noi su questo fronte grazie Sara intanto abbiamo i risultati della domanda che vi abbiamo posto Federica non so se vuoi intervenire insomma il più oltre il 60% ha risposto che è un processo di cambiamento e in effetti è così è un processo di cambiamento perché quando tu analizzi le differenze di genere e lo puoi fare tramite degli indicatori tramite degli strumenti che ti dicono e noi diamo un ruolo fondamentale cioè noi diciamo creiamo quegli strumenti proprio come istituto nazionale di statistica che ti permettono di fare un'analisi delle differenze che esistono tra maschi e femmine e già noi contribuiamo già con questa cosa a cambiare la cultura perché diamo conoscenza e i cambiamenti si basano sulla conoscenza e sulla consapevolezza una volta che tu hai la consapevolezza che esistono delle differenze tu riesci ad analizzare e a collocare le risorse nel senso nel senso che va verso la parità di genere perché si fa e questo risponde a una domanda che ha fatto la collega prima perché si fa dopo e non prima perché non è previsivo perché i tempi forse ancora non sono maturi iniziano a pensare a un bilancio di genere dello Stato in un'ottica previsiva ma non cioè non è non è non è semplice mentre quando spendi i soldi tu hai una certificazione concreta e puoi dire bene questi soldi sono andati e nella direzione della parità di genere cerco di misurarla attraverso gli indicatori statistici nella quella previsiva puoi allocare le risorse ma non sai bene come possono avere che tipo di impatto ex ante hanno sulla parità di genere questo grazie grazie Federica purtroppo io ho l'ingrato compito di riportare sui tempi e siamo diciamo slittati purtroppo un po' in avanti per il problema che abbiamo avuto all'inizio con la rete quindi diciamo abbiamo dei tempi serratissimi e passo quindi la parola a Sabrina Pifferi che ci presenterà appunto che ci parlerà del bilancio di genere dell'istat vai Sabrina sì mio compito buongiorno a tutti e tutte innanzitutto il mio compito sarà quello di descrivervi al valle dell'analisi di contesto effettuata da Sara e da Federica di descrivervi poi come questo contesto lo abbiamo abbiamo fatto un'operazione di tailoring e lo abbiamo poi calato all'interno del nostro istituto diciamo che vedete le slide sì perfetto allora diciamo che come posso andare avanti con le slide perché la freccetta sul devi prima cliccare con il mouse e poi la freccetta perfetto allora effettuiamo sin da subito un'operazione di inquadramento interno all'istituto che cos'è appunto come arriviamo al piano di non al piano di genere per codonatemi al bilancio di genere ci arriviamo perché il bilancio di genere è un output del nostro piano integrato di attività e organizzazione nel documento programmatorio del 2023 2025 poi vi farò vedere come avevamo come output come obiettivo la redazione di una nota progettuale sul bilancio di genere e proprio nel PAO 24 26 invece avevamo l'obiettivo di produrre la prima versione del bilancio di genere appunto dell'ISTAT nota progettuale che è stata presentata a dicembre diciamo 2022 al direttore scusatemi a dicembre 2023 al direttore generale in cui conteneva a grandi linee quello che sarebbe stato poi il nostro bilancio di genere all'interno della nota progettuale viene presa la decisione di ispirarci al bilancio di genere dello Stato per cui mi preme sin da subito precisare che noi ci siamo ispirati al bilancio di genere dello Stato e non era una nostra pretesa quella di diciamo fare una copia del bilancio di genere dello Stato perché dovevamo innanzitutto effettuare un'operazione che fosse soprattutto sostenibile cioè sostenibile nel senso di produrre una prima versione del bilancio di genere dell'Istat che fosse poi anche possibile riproporla negli anni successivi e mettere in atto delle politiche di buone pratiche e quindi pensare a una prima versione del bilancio di genere e poi nelle versioni a seguire proprio per questo il bilancio di genere è stato inquadrato all'interno di quelle che sono le strategie dell'Istituto per cui ci si in qualche modo tutte le operazioni allegate al bilancio di genere sono collegate alla linea strategica L8 appunto riportata nel Piao sia 2023 2025 che 2024 e 2026 che ci dice che l'obiettivo è quello di rafforzare le azioni orientate al benessere organizzativo alla politica di responsabilità sociale dell'Istituto alle pari opportunità e alla sostenibilità ambientale qui siamo nel tema della responsabilità sociale e delle pari opportunità la linea strategica si declina poi in obiettivi annuali che possono essere innovativi e obiettivi annuali operativi i programmi strategici sono un modo per aggregare e rappresentare gli obiettivi di innovazione il bilancio di genere sta all'interno del programma strategico PG8 sviluppo delle competenze e delle politiche di responsabilità sociale ma come sta all'interno di questo programma con un'area tematica la rendicontazione sociale progettazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale area tematica che è rappresentata da iniziative che collaborano sono legate logicamente al PG8 e collaborano insieme per produrre un output comune ci dovevamo anche chiedere e questo è stato un lavoro fondamentale per rendere questa operazione sostenibile nel tempo ci dovevamo anche necessariamente chiedere ma quando produciamo il bilancio di genere dell'Istat devo dirvi che a rigor di logica il bilancio di genere dell'Istat dovrebbe essere prodotto nello stesso momento in cui viene prodotto il bilancio di esercizio questo attualmente non può essere così e lo vedremo poi in seguito ma abbiamo effettuato un'analisi di tutti i documenti dei principali documenti di pianificazione e i principali documenti di rendicontazione per queste prime versioni del bilancio di genere abbiamo pensato che il momento temporale nell'arco di un ciclo di pianificazione e di rendicontazione in cui pubblicare il bilancio di genere fosse nel mese di marzo e fosse il bilancio relativo all'anno T-2 quindi nel mese di marzo 2025 noi pubblicheremo il bilancio di genere relativo all'anno 2022 perché marzo quali sono stati i principi ispiratori che in questo momento ci hanno portato a posizionarlo nel mese di marzo sono sostanzialmente di due nature una è una natura normativa abbiamo fatto un'analisi della natura normativa e l'altra è di natura più operativa che poi vi descriverò in seguito quella di natura normativa perché a marzo perché prima di tutto le linee guida di funzione pubblica sulla redazione della relazione annuale della performance riportano che all'interno della relazione sulla performance fosse presente il collegamento al bilancio di genere dell'istituto quindi abbiamo la relazione sulla performance a giugno nei tempi di marzo diciamo sono compatibili con questa operazione altro elemento è la circolare la circolare numero 2 del 2019 sulle misure per promuovere le pare opportunità e rafforzare il ruolo del QG in cui nella sezione 2 dove vengono specificate le operazioni per l'attuazione e il monitoraggio della direttiva viene proprio specificato che entro il primo marzo di ogni anno l'amministrazione deve inviare al QG al Comitato Unico di Garanzia il bilancio di genere dell'amministrazione e che esso deve essere allegato all'interno della relazione annuale del QG che dovrà essere pubblicata tutti gli anni entro il 30 di marzo quindi queste sono state le principali linee guida che ci hanno portato alla collocazione attualmente del bilancio di genere nel momento di marzo devo dire che è molto importante anche la collocazione del piano di uguaglianza di genere che mentre il bilancio di genere viene inteso come un mero strumento di diciamo di natura contabile invece il piano di uguaglianza di genere contiene azioni obiettivi scusatemi azioni ed indicatori per raggiungere l'uguaglianza di genere all'interno per promuovere l'uguaglianza di genere all'interno dell'istituto per cui vi dovrò in qualche modo dire anche chi si è occupato di questo lavoro il lavoro come abbiamo detto è stato svolto all'interno dell'area tematica area tematica che ha un'iniziativa portante che è quella della parità e sostenibilità il bilancio di genere il bilancio ambientale che è un'iniziativa del servizio PSP di cui io sono responsabile all'interno dell'area tematica hanno contribuito le diverse strutture dell'istituto abbiamo avuto non si poteva pensare di fare questo lavoro senza il supporto del servizio di ragioneria che ci ha aiutato nell'operazione appunto di legame con le voci contabili del bilancio di esercizio i due dipartimenti di IPS e di IRM la di CRU la di CAL la di CICI la di CME il servizio PSS e anche il il CUG proprio per sia da un punto di vista di impostazione concettuale sia da un punto di vista poi delle spese che siamo andati ad analizzare come abbiamo detto perché noi siamo partiti dal bilancio di genere dello Stato perché avevamo innanzitutto un know-how interno ben strutturato che ci poteva permettere di ispirarci a delle buone a delle buone pratiche in particolare delle linee guida del bilancio di genere dello Stato noi ci siamo focalizzati proprio sulle linee guida e questo l'abbiamo fatto in fase di redazione della nota progettuale e quello che più ci ha convinto è stata la classificazione nelle linee guida che analizzammo all'epoca avevamo tre classificazioni adesso poi il bilancio di genere dello Stato si è evoluto in quattro classificazioni in cui avevamo le spese classificate come neutrali cioè quelle spese non connesse al genere le spese sensibili che hanno un diverso impatto su uomini e donne oppure le spese dirette a ridurre le disuguaglianze di genere che sono quelle riconducibili direttamente riconducibili o mirate a ridurre le disuguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità all'interno delle linee guida sono fornite anche degli esempi su quali tipi di spese potevano essere in qualche modo considerate quindi questo è stato il nostro principio ispiratore dopodiché il secondo elemento è stato sì ma quali spese noi all'interno andiamo a considerare e qui abbiamo avuto appunto il proprio l'operatività vera e propria del progetto diciamo in una prima fase siamo andati a analizzare il nostro piano dei conti e siamo andati a vedere tutte quelle che erano le voci che potevano in qualche modo essere classificate nella classificazione suggerita dal bilancio di genere dello Stato poi abbiamo dovuto fare i conti anche con il nostro sistema contabile il sistema contabile attualmente presente in istituto non possiede su alcuni tipi di spese i dati suddivisi per genere quindi abbiamo preso come elemento il bilancio di esercizio del 2022 perché era quello che avevamo a disposizione e era quello quindi siamo andati a lavorare su un consolidato e siamo andati a selezionare tra le spese sensibili nella nostra versione io l'ho sempre chiamata la versione beta del bilancio di genere dell'Istat le missioni che il personale effettuava sia all'estero che in Italia la formazione e in particolare in questa prima versione ci siamo focalizzati sulle docenze interne i contributi socio-assistenziali per il personale come spese sensibili al genere qui invece come spese dirette a ridurre le disuguaglianze di genere abbiamo voluto dare una visione nostra la visione nostra è quella di valorizzazione delle attività dell'istituto abbiamo pensato che in particolare le indagini statistiche che vengono effettuate che producono dati relativi al genere o dati relativi alle disuguaglianze fossero un enorme contributo che l'Istat dava al paese per ridurre le disuguaglianze allo stesso modo tutta l'attività di comunicazione che viene fatta all'interno dell'istituto parlo di convegni eventi infografiche tutte relative al tema sulle disuguaglianze di genere e anche gli accordi di collaborazione che l'istituto stipula con altri soggetti per lavorare appunto a progetti inerenti alle disuguaglianze di genere quindi da un lato abbiamo la visione interna su come vengono spese le donne suddivisi per uomini e donne e dall'altra volevamo dare una visione esterna su quanto l'istituto spende per ridurre le disuguaglianze di genere la notizia è che tutti questi dati sono stati poi rielaborati perché ripeto all'interno del sistema contabile non abbiamo una divisione per genere quindi grazie al contributo dei colleghi che non nominerò ma non perché non lo voglia fare ma perché vivo nel terrore di dimenticarmi qualcuno quindi grazie al profondo contributo dei colleghi di Dicru di DPSS del Dips del Dirm DICAL siamo riusciti appunto a inserire un quadro congruente di queste tipologie di spese perché congruente perché i dati che abbiamo elaborato fuori dal sistema contabile dovevano necessariamente convergere con quanto presente all'interno del bilancio di esercizio 2022 in questo è stato fondamentale l'apporto che abbiamo avuto dal servizio di ragioneria da questo vi riporto qualche piccolo dato che è emerso e vi invito appunto a leggere nel complesso il bilancio di genere dell'Istat che contiene dati molto più elaborati ci tenevamo a far sì che fosse presente il dato della spesa ma abbiamo in qualche modo inquadrato anche il contesto in cui andavamo ad operare ad esempio quando abbiamo parlato di formazione vero è che ci siamo focalizzati sulle docenze interne ma diciamo abbiamo dato anche un quadro generale su come viene approcciata la formazione sia dal punto di vista degli uomini che dal punto di vista delle donne quindi ne è emerso che per quanto riguarda le docenze interne che sono state per la gran parte iniziative ideate e progettate dalla Dicru ma all'interno sono state anche considerati i corsi che i colleghi Istat fanno per l'European Statistical Training Program e anche per i progetti di collaborazione internazionale abbiamo visto che abbiamo 92 docenti interni nel 2022 di cui il 45% è costituito da uomini e il 55% invece da donne mentre la spesa è suddivisa un 48% fra le donne e un 52% fra gli uomini probabilmente perché per gli uomini si ha una maggiore durata in giorni dei corsi invece per quanto riguarda le emissioni riporto due piccole analisi che abbiamo fatto diciamo fondamentalmente la spesa è superiore per le donne il 61,31% per le donne e il 38,69% per gli uomini era interessante andare a vedere quale fosse la durata media delle trasferte in giorni da un punto di vista personale speravo che ne mergesse una maggiore differenza invece diciamo che tutto sommato è abbastanza bilanciata perché le donne stanno 4,2 giorni all'estero mentre l'Italia ha due giorni e virgola uno gli uomini si fermano un po' di più diciamo che gli uomini si fermano 4,6 giorni all'estero e le donne 2,3 giorni in Italia per quanto riguarda i benefici assistenziali non vi riporterò i dati effettuati nelle tabelle perché diciamo la narrazione diventava troppo lunga e poi non sono emerse dei dati che ci portano almeno in questo primo anno a delle riflessioni specifiche mi preme però sottolineare e questa è una testimonianza di quanto difficile sia stato poi il lavoro di raccordo e che in questo anno abbiamo comunque un disallineamento rispetto al bilancio d'esercizio 2022 in quanto sono state considerate le spese riferite al fondo costituito per l'anno 2022 pertanto riferite alle spese che il personale ha sostenuto nel 2021 che è stato richiesto nel 2022 sono state liquidate a fine 2023 e la prima parte dell'anno 2024 invece il focus importante è quello del contributo che noi diamo verso l'esterno ho riportato qui questa frase di questo sociologo statistico francese che dice che la conoscenza statistica non è solo uno strumento neutro di misurazione ma un potente mezzo di interpretazione e trasformazione del mondo sociale sulla linea di questo principio ispiratore abbiamo effettuato un'analisi sul PSN 2020-2022 e siamo andati ad analizzare quei valori che contenessero quei lavori che contenessero al loro interno la variabile sesso all'interno di questi valori siamo poi andati ad analizzare i costi diretti grazie al contributo delle colleghe del DIPS ne sono immerse 12 indagini dei quali riportiamo la spesa su questo tema abbiamo delle prospettive di sviluppo per il bilancio 2023 perché nel frattempo è intervenuta la legge 53 del 2022 è la nuova legge sulle statistiche in tema di violenza di genere in cui all'articolo 2 si parla appunto di quelle che sono le attività che dovrà sostenere l'Istat e il Sistan e già sappiamo che all'interno dei nostri sistemi informativi tra cui il PSN plus il sistema di pianificazione del programma statistico nazionale abbiamo la possibilità di andare ad evidenziare quali sono quei lavori che produrranno addirittura indicatori relativi al genere altro focus importante è quello relativo alle attività di comunicazione abbiamo analizzato insieme ai colleghi della DCCI le innumerevoli attività che vengono fatte per promuovere la lotta le disuguaglianze di genere quindi riporto così in maniera confusa solo per darvi la sensazione di quanti sono quindi queste sono tutte quelle che abbiamo analizzato per il 2022 sicuramente le infografiche il premio donne sostenibilità per il censimento dell'agricoltura i due convegni che sono stati organizzati in occasione di novembre per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e in occasione dell'8 marzo per la festa delle donne e non ultime le olimpiadi di statistica che sono un importante tassello per lo sviluppo della presenza femminile all'interno delle carriere dei percorsi formativi STEM sulle attività di comunicazione abbiamo permesso una prima milestone però ci tenevamo particolarmente perché per il 2022 non eravamo ancora pronti a dare una quantificazione dei costi ma sarà questo un obiettivo per il 2023 stessa cosa per i progetti di collaborazioni istituzionali siamo andati ad analizzare questo all'interno del servizio PSP tra tutti gli accordi che noi abbiamo in essere quali sono quelli che trattano le tematiche relative alla parità di genere al genere e sono 13 tra protocolli di intesa e accordi operativi si tratta prevalentemente di progetti di collaborazione che non hanno previsto movimenti finanziari in entrata e in uscita tra le parti e l'obiettivo è quello di realizzare una rendicontazione mirata allo scopo di definire le spese degli accordi funzionali all'inituzione della disuguaglianza di genere diciamo questo è in grandi linee quanto è stato affrontato nel bilancio di genere 2022 ripeto l'obiettivo sin da subito di tutti i componenti dell'area tematica era quello di perdonatemi il termine molto proprio spicciolo molto operativo di piazzare la milestone cioè di dire facciamo la nostra versione beta del bilancio di genere dopodiché è tutto ampliabile è tutto arricchibile e secondo me poi nel tempo potrà dare enormi risultati io vi ringrazio tolgo la condivisione e a vale della presentazione è mio compito anche io di lanciare un sondaggio un sondaggio che insomma ci serve per per il futuro perché la collaborazione di tutti è fondamentale diciamo vado vai mi piacerebbe che il prossimo bilancio di genere fosse più articolato mi aspetto non voglio influenzare il voto non si fanno diciamo diciamo che ecco il il 90% ha risposto di sì è quello che diciamo è il nostro obiettivo quello di renderlo assolutamente più più articolato ci abbiamo tenuto ripeto a questa visione del documento di contabilità non tutti i bilanci di genere di tutti diciamo delle altre pubbliche amministrazioni che abbiamo analizzato attentamente sono documenti contabili molti sono documenti che riportano una situazione relativa al genere la nostra scelta di basarci su l'aspetto della contabilità è soprattutto derivata dal fatto che non volevamo ripetere informazioni le informazioni relative al genere sono già presenti all'interno del piano di uguaglianza di genere all'interno del PIAO anche c'è qualcosa e anche all'interno della relazione annuale del Cug per cui noi volevamo dare uno spaccato che fosse di servizio ho visto che è stata appunto posta la domanda il bilancio di genere delle pubbliche amministrazioni non sono tutti uguali no non sono tutti uguali su questo c'è le amministrazioni possono scegliere come effettuare perché non ci sono delle linee guida specifiche su come effettuare i bilanci di genere cioè c'è da un lato il bilancio di genere dello Stato a cui partecipa le amministrazioni centrali e poi ci sono le pubbliche amministrazioni che intraprendono la propria strada dei rendi contazione sociale l'InstAT ha deciso questo ha deciso almeno in questo momento di fare un documento contabile perché è proprio appunto per chiudere per ritornare a quel discorso della concretezza cioè se continuiamo a parlare di disuguaglianze di genere senza portare dati senza portare terreni concreti sui quali poter andare a costruire rischiamo che rimangano in qualche modo parole ok grazie Sabrina io purtroppo diciamo dobbiamo stringere con i tempi c'è anche un'altra domanda chiedono quante siamo ripartiti per livello ad esempio oppure non rientra nel bilancio questa informazione allora nel bilancio abbiamo riportato una una piccola analisi su come siamo ripartiti per livello ma facciamo poi un rimando alla relazione annuale del Cug che è dettagliata su questo tema come in una sezione del piano di uguaglianza di genere si parla proprio di questo della ripartizione del personale ed è interessante il focus sulle posizioni eh apicali però ecco sono riportati in altri tipi di documento ok va benissimo grazie Sabrina per questo sguardo d'insieme sul sul bilancio di genere e io ringrazio diciamo tutte le relatrici per aver contribuito nella nell'evento di oggi ad accrescere la conoscenza sul bilancio di genere e sugli diciamo più in generale sugli strumenti che è possibile attivare per contribuire diciamo ad attuare politiche più eque dal punto di vista del genere ringrazio Giovanni Praticchizio e Sofia Barletta per la realizzazione del video dell'intervista a Piera Levi Montalcini e tutti i colleghi che hanno lavorato alla realizzazione di questo webinar chiudiamo il nostro webinar con diciamo con un'altra sorpresa e vi proponiamo la lettura di uno stralcio di un'intervista gli scienziati dal titolo gli scienziati non sanno vedere il gender gap pubblicata sulla Repubblica di qualche settimana fa e condotta dalla giornalista Simonetta Fiori l'intervista è un'altra donna di scienza Elena Cattaneo biologa senatrice a vita e a leggerla saranno i colleghi Giovanni Praticchizio ed Emanuella Franceschelli grazie a tutti e arrivederci a tutti anche la parte mia grazie grazie un saluto ecco chiediamo domande ogni volta le domandano mi sentite? sì mi sentite? sì ok vado ogni volta che le domandavano ma lei professoressa è stata mai discriminata sul lavoro? Elena Cattaneo non esitava a rispondere di no che non aveva mai subito alcun pregiudizio maschile e in fondo tutti i riconoscimenti scientifici e pubblici potevano mostrare una strada accostellata di successi autorità internazionale nello studio della malattia di Hattington e senatrice a vita su nomina di Giorgio Napolitano poi però mi sono resa conto che la disparità di genere è presente ovunque in ogni atomo della nostra vita dentro e fuori dell'università consolidata da schemi comportamentali che sono profondi e dominanti così radicati che anche noi donne rischiamo di rimanerci impigliate e allora mi sono messa a studiarla come farei con ogni altro oggetto di ricerca partiamo dalla sua presa di coscienza del gender gap lei ammette che è stata tardiva sì per anni sono stata convinta che il mio essere donna moglie e madre non avesse ostacolato la mia vita professionale e che essere spesso l'unica donna in un ambiente maschile non avesse comportato discriminazioni anche rispetto alle mie colleghe che si fermavano un secondo prima di fare il salto attribuivo questa rinuncia a una mancanza di ambizione ovviamente sbagliavo e quando si accorta della prevaricazione maschile? non molto tempo fa di fronte a una lista di 20 nomi per un progetto scientifico 19 maschi e una femmina ho cominciato a interrogare i miei colleghi su questo squilibrio la disparità di genere non era cosa di cui bisognava parlare sì così e qui è scattata una seconda riflessione non disponevamo di strumenti scientifici per riconoscere il problema neppure io ero in grado di codificarlo il gender gap come si manifesta? quanto è diffuso il fenomeno? non sono nozioni di pubblico dominio magari se ne parla in modo glamour ma manca una scienza condivisa e allora mi sono messa a studiare il problema la scienza serve anche a questo a rivoluzionare le proprie convinzioni a buttare via quelle sbagliate e sugli stereotipi maschili c'è ancora molto lavoro da fare grazie 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 ai colleghi che ci hanno recitato diciamo questa intervista vi salutiamo grazie a tutti e arrivederci al prossimo webinar troverete le slide e la registrazione all'interno di questo team quindi saranno caricate a breve dalle relatrici oppure da noi e poi anche troverete anche la registrazione sì ci tengo a dire che questo webinar tra l'altro sarà disponibile anche sul canale youtube dell'istat e sui social grazie a tutti arrivederci grazie